Dopo anni di lavori il cavalcaferrovia De Sabata è tornato transitabile a quattro corsie e nel riaprirsi al traffico completo si trascina anche l'apertura del sottopasso dei cappuccini ampliato e riqualificato con tanto di ritorno alla normalità del traffico su via Cardinal Massaia. Niente taglio del nastro in ossequo alle regole di campagna elettorale comunque additate come violate dai candidati politici del centrodestra in base alle regole sulla par condicio che vieterebbero inaugurazioni in questo periodo. Niente taglio del nastro ma una festa in musica per riaprire un sottopasso ferroviario pedonale per un intervento da 884 mila euro che ha risolto problemi relativi alle barriere architettoniche potenziando la fruibilità del sottopassaggio ora largo 3 metri lungo 102 e con pendenza delle rampe dell'8 per cento. Un'area che ora si arricchisce anche di un nuovo deposito per biciclette a servizio della mobilità urbana. Festa di riapertura completata dalla luce emanata dalla statua della Madonnina dei Cappuccini che è tornata ad illuminarsi grazie all'intervento congiunto del Lions Club Pesaro della Rovere e della Tecno Impianti SRL di Vallefoglia. Lions che già si erano fatti carico del restauro della statua la cui era stata sfregiata dal terremoto di novembre 2022. In agosto la statua era stata riparata ora è tornata anche al suo splendore notturno.